Sport e solidarietà, quasi due mesi di tornei di basket, non solo Pavia ma anche in provincia. Sì, bellissime iniziative, fa piacere per il comune essere al fianco di questi atleti che ha smesso la casacca che usano durante l'anno per le loro competizioni, si indossano quello dell'organizzatore, organizzano questi tornei 3 contro 3 in giro per la provincia e a Pavia. Bellissime iniziative che coniugano l'aspetto sportivo con l'aspetto sociale alla beneficenza. Quindi ancora un applauso più grande a chi mette la propria passione al servizio anche di queste finalità importanti. Memorial Colussi, sabato 26 maggio al Blue River, il nostro torneo intitolato al nostro capitano. Noi vi aspettiamo noi insieme all'orgoglio pavese che per questi tre anni ci sta dando una mano. Quindi, che dire, partiremo sabato dalle 10 in poi fino alla sera. Per chi volesse iscriversi può andare sulla pagina Facebook Sesto Memorial Marti Colussi oppure chiamare il 339 44 91 735. Vi aspettiamo numerosi. Torneo al volo, sabato 9 giugno, si inizierà verso le 10 di mattina al Blue River. Come sempre si svolgeranno tutte le fasi. Le categorie sono amatori, senior, under 16 e under 13. Verso le 6 di pomeriggio ci sposteremo in cupola Arnaboldi per i quarti di finale, semifinali e finali. Finale del gara di tiro da tre punti. Insomma, il tutto terminerà verso mezzanotte. Sicuramente la cupola, l'atmosfera magica, rende un po' particolare il nostro torneo. Torneo al Campetto a Carbonato e Cino, 23-24 giugno, decima edizione. Il sabato giocheranno bambini e ragazzi, la domenica giocheranno gli adulti, le vincenti andranno ai finali nazionali e il sabato sera faremo una serata con ex giocatori di Serie A dove faremo un 3-3 con le vecchie glorie per festeggiare i 10 anni. Tutto l'incasso va in beneficenza. L'anno scorso abbiamo fatto 180 squadre, quest'anno speriamo di farne 200. Vi aspettiamo il primo di luglio a Ceranova, nel piazzale antistante la palestra comunale e la piscina comunale, piazzale dedicato a Marco Simoncelli. L'anno scorso hanno partecipato 35 squadre, quest'anno che è la settima edizione contiamo ad arrivare anche a 40-45 squadre. È un torneo molto sentito non solo nel Pavese ma anche nel Milanese. Vengono anche squadre da Alessandria, dalla provincia di Genova, dalla provincia di Lodi. Quest'anno verranno anche a trovarci gli amici dell'Oltrepo, che è un'associazione di appassionati di Fiat 500 d'epoca, che faranno da contorno alla manifestazione. Contiamo appunto di vedervi numerosi, la comunità di Ceranova vi aspetta, speriamo appunto che tutto vada bene. La squadra vincitrice avrà in palio il soggiorno pagato a Riccione per le fasi finali del torneo nazionale.